Un applauso perché io ho un moderatore che è in grado di reggere tutte queste ore cambiando argomento continuamente, chapeau. Ma io mi alleno, allora, ritorno sul tema della sostenibilità che sollevavo con guerra, perché la storia di Torino da questo punto di vista è abbastanza significativa, no? Città, diciamo, fabbrica, città auto fino agli anni 80 e primissimi 90, poi città figa, città dove andare, dove trovarsi, dove fare turismo, però con un prezzo pagato per questa svolta in termini di bilanci locali per molti anni molto pesante. Ora, quello che noi dobbiamo trovare è il modo per fare mille, duemila svolte come quella vissuta da Torino, però senza quelle ricadute lì. Gli strumenti ci sono? Come stiamo facendo? Ma è chiaro che il PNRR è la leva con cui accompagnare questa trasformazione ed è del tutto evidente che è una leva che questo Paese non può permettersi di non utilizzare, quindi sottoscrivo completamente quanto dicevano Beppe Sala e Gaedano Manfredi, sarebbe un errore colossale, strategico, storico, immaginare un'Italia che rinuncia alle risorse, che le restituisce, che non le chiede, perché non è in grado di spenderle. Se non le chiede per altre ragioni è un'altra discussione, ma se è un tema di efficacia amministrativa credo davvero che sarebbe un errore storico che non ci verrebbe perdonato dai nostri figli e dai nostri nipoti e dentro questa cornice sicuramente i comuni l'hanno dimostrato i fatti concreti, sono le amministrazioni dello Stato che hanno gestito meglio forse queste risorse e credo anch'io che il problema che avremo nei prossimi mesi sarà quello di mettere a terra la dimensione operativa. E' chiaro che forse la sfida che abbiamo è anche una sfida culturale perché questa trasformazione a cui faceva riferimento oggi è molto più veloce, c'è un tema che è la velocità della trasformazione, la rivoluzione digitale, pensiamo, si parlava di turismo, pensiamo a come è cambiato il mondo del turismo negli ultimi vent'anni. Oggi chi è che va in un'agenzia di viaggio per prenotare un biglietto aereo, oggi chi è che non guarda sostanzialmente booking o un'altra piattaforma per scegliere un albergo, oggi abbiamo le piattaforme degli affitti brevi, quindi se noi prendiamo in considerazione questo elemento che è la velocità del cambiamento è chiaro che la sfida della riconversione delle città e dei comuni è decisamente più difficile ma per certi aspetti anche forse più sfidante. Ma da questo punto di vista c'è uno specifico delle grandi città, nel senso che per esempio sui piccoli borghi abbiamo visto c'è un problema spesso di scala, grandi quantità di risorse che però vanno a piovere su piccole o piccolissime o quasi assenti strutture amministrative, c'è invece un tema di scala nel tempo e nella dimensione degli investimenti nelle città metropolitane, il PNRR offre risposte? E' chiaro che le grandi città sono stesse piattaforme in cui si possono combinare diversi eventi perché è chiaro che come diceva la collega sindaca prima su un comune di 2000 abitanti un investimento di 7 milioni vale 10 anni di bilancio, in una grande città del nord è chiaro che sono interventi che hanno un'efficacia puntuale limitata ma che vanno inquadrati in un quadro generale. Sicuramente è chiaro che il paese che noi ci aspettiamo di trovare alla fine dell'attuazione del PNRR sarà un paese radicalmente rinnovato, io dico sempre che comunque il fatto che si sia tornati a investire in opere pubbliche, in un paese in cui di opere pubbliche non si investiva più da decenni è un elemento importante, il fatto che siamo tornati ad assumere dei giovani nelle amministrazioni è un elemento importante. Comunque c'è uno sforzo di modernizzazione che lascerà dal 2026 in avanti un'Italia secondo me più forte, più robusta. Le grandi città scontano quanto veniva detto prima, è chiaro che sono i luoghi della contraddizione, sono i luoghi delle opportunità, sono i luoghi in cui questi elementi appaiono più rilevanti, però penso davvero che dentro questa cornice le vocazioni cultura e turismo che sono vocazioni queste sì trasversali al paese perché Torino è una città post-industriale o industriale 4.0 ma anche Torino ha un elemento cultura e turismo ed è quella la piattaforma nazionale che se guardiamo dall'ampedusa al Trentino all'Italia. Allora credo che l'eredità che comunque verrà lasciata sarà un'eredità sicuramente importante. Che però è anche, e su questo chiuderei, un tema di eredità da gestire sul fronte poi del medio periodo della spesa corrente eccetera. Cioè arriverà una fase in cui l'eccezionalità inevitabilmente si chiuderà perché l'eccezionalità non è mai sostenibile nel lungo periodo sia nella vita personale sia in quella delle comunità. Però tu esci dalla bolla dell'eccezionalità in una condizione molto diversa, auspicabilmente per l'Italia molto diversa, da quella che avevi quando ci sei entrato. Questo determina un cambio di orizzonti di spesa ma di competenze amministrative di molti settori. Ci stiamo preparando? Sarà un'Italia diversa però attenzione, quello che stiamo facendo è anche un'operazione che dovrà andare a modificare in riduzione molta spesa, spesa corrente. Pensiamo al tema della riqualificazione energetica degli edifici. Ha un tema ambientale, ha un tema di intervento edilizio ma avrà anche un tema piuttosto potente sul risparmio delle bollette energetiche dei comuni. Quindi ci troveremo le linee di metropolitana, il cambio dei mezzi pubblici. Sono tutte cose che stiamo investendo con spesa straordinaria ma che lasceranno un'reddità molto importante che io auspico e credo sarà un dato oggettivo. farà due cose fondamentalmente. Ridurrà l'impronta ecologica generale del Paese, delle nostre città perché quello sarà un elemento, noi a Torino lo stiamo quantificando e stiamo facendo un lavoro analitico per capire quanto riduciamo l'impronta di emissioni di CO2 di ogni intervento e soprattutto ridurrà moltissimo i costi di gestione. Quindi avrà un effetto anche virtuoso su quella parte di nostro bilancio, Torino è noto, non è che goda di particolare salute, che è la spesa corrente che tante volte nei periodi di magra è quella che viene aggredita dai trasferimenti statali. Quindi io continuo a ritenere il PNRR la più grande opportunità che questo Paese ha ricevuto negli ultimi vent'anni. Quindi credo davvero che se il Governo dà fiducia ai sindaci, dà fiducia ai comuni, troveremo tutti un'Italia migliore. Grazie, grazie Sindacolo Russo, mi pare che proprio questo sia il messaggio, se l'impostazione di questi lavori era di mettere bene al centro del tavolo il fatto che i comuni sul PNRR stanno lavorando, stanno correndo, come diceva il Presidente ieri mattina, mi pare che il messaggio sia arrivato in modo...